Streghe... Cosa sappiamo delle streghe? Esistono davvero! Le streghe non sono delle donne. Sono demoni, in forma umana. In ogni grande città, in ogni piccolo paese, vivono in mezzo a noi. Ma ecco la cosa più importante. Le streghe odiano i bambini. Ragazze, ho un piano. Basta una goccia per trasformare ogni bambino in topo. E così stermineremo i pupi! Eh... topi. Stermineremo i topi. Perché siamo dei criceti? Topi! Fa lo stesso! Nonna, qua giù! Sei tu, piccolo! Oh, signore! Avanti! Dobbiamo fermarle! Non ti permetteremo di portare a termine il tuo piano malefico. E chi può fermarmi? Preso! Non importa chi tu sia. O quale sia il tuo aspetto. L'importante è avere qualcuno che ti ami. Mi perdoni, non è che per caso nasconde un topo da qualche parte in questo momento? Un topo? Mmh. Perché dovrei andare in giro con un topo. Stryka. 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 Grazie.